sei pronto a tuffarti in una nuova avventura pokemon personalizza il tuo allenatore e il tuo pokemon prendendote ne cura esplora la regione di canto a fianco o addirittura cavalcando i tuoi pokemon hai quello che ti serve per affrontare i capi palestra più agguerriti per la prima volta gioca anche in due con un amico pokemon let's go pikachu e pokemon let's go ivy solo su nintendo switch dove quando e con chi vuoi